A distanza di 4 anni dalla sua chiusura torna attivo appenne lo sportello H, un front office indispensabile per gli utenti, la maggior parte anziani dei centri dell'area vestina che in questi anni sono stati costretti ad affrontare lunghe e scomode trasferte. Lo sportello, il punto di informazione, avrà l'obiettivo anche di abbracciare tutti gli altri paesi dell'area vestina, sono 10, tra cui comuni anche del Terramano come Bisenti, Castiglione, Messerraimondo e Castilenti, quindi vogliamo far tornare la città di Penne al centro dei servizi pubblici presenti sul territorio. È la scommessa che la mia amministrazione comunale ha messo in campo e stiamo andando verso quella direzione. Lo sportello di H è ospitato presso il Chiostro di San Domenico dove sono ubicati gli uffici comunali. Per il momento rimarrà aperto due volte a settimana. Per il momento gli orari di apertura degli uffici saranno il lunedì mattina dalle 8.30 alle 13 e il mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00. Nell'attesa di implementare tutti i servizi, intanto partiamo con una parte di quei servizi che possono essere dislocati sul territorio. Ci siamo impegnati dopo due anni di pandemia per l'apertura di questo sportello ma oggi siamo andati fino in fondo. Ringrazio il sindaco che c'è la disponibilità di avere questo ufficio qui a Penne e siamo presenti su tutta l'area Vestina.